Ciao a tutti, oggi prepareremo l'insalata di fagiolini, patate, piselli e tonno. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono fagiolini, patate tagliate a pezzetti, piselli, tonno sott'olio sgocciolato, sale, pepe, olio, prezzemolo delitato, acqua e un cucchiaino di sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il sale, posizioniamo il cestello con le patate, chiudiamo con il coperchio senza il misurino, posizioniamo il varoma, chiudiamo con il coperchio ed azioniamo il bimbi per 35 minuti. Temperatura varoma, velocità uno. I piselli ed i fagiolini sono cotti, trasferiamoli in una ciotola capiente. anche le patate sono cotte. Mettiamole nella ciotola con i fagiolini piselli, il tonno e il prezzemolo e condire con olio, sale e pepe e servire. insalata di fagiolini, patate, piselli e tonno. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.